Venerdì 3 aprile, San Luigi, e il 93esimo giorno dall'inizio dell'anno, le mancano 272 alla fine. Il sole sorge alle 6.49, tramonta le 19.44, la luna si leva alle 18.54, tramonta le 6.17. Con l'unanimità dei voti al primo scrutinio viene acclamato doge Francesco Morosini. Era stato un grandissimo uomo di guerra, tanto in terraferma e prima come un preveditore e poi capitano generale. Aveva assurdo la difesa di Candia contro i turchi fino alla resa forzata dell'isola. Le previsioni per domani. In prevalenza molto nuvoloso, salvo qualche possibile parziale schiarita. Precipitazioni. Progressivo aumento della probabilità di modeste precipitazioni sparse ed intermittenti. In montagna la probabilità di fenomeni sarà crescente fino a medio-bassa mentre sulla pianura sarà medio-alta, con possibili locali rovesci. Limite delle nevicate in abbassamento fino a 1.000-1.300 metri. Temperature minime pressoché stazionarie, massime in calo con valori molto inferiori alla media del periodo. Grazie.